Ciao a tutti, come riuscire a ignorare un uomo e a farlo reagire? In questo video voglio insegnarti come riuscire a invertire la clessida, un uomo che ti sfuggiva, che inizia a inseguirti, che inizia a diventare innamorato di te. Prima però di affrontare te mi iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco e iscriviti, mi raccomando, al mio nuovo canale Crescita Personale con Massimo Teramasco, del quale trovi il link qua sotto, un canale dove parlo di crescita personale in amore, nella sessualità, nell'autorealizzazione. Secondo me lo troverai molto interessante, vai a fare un salto, vai a curiosare e se ti piace iscriviti. E inoltre ti ricordo che sul mio canale Massimo Teramasco troverai tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate video e registrazione di seminario dal vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza individuale. Devi semplicemente andare sul canale, home page, tastino abbonati, vicino a tastino iscriviti, clicchi su abbonati e selezioni il livello di abbonamento che preferisci. E veniamo al tema. Allora, sai che fare con un uomo scostante? Un uomo che oggi c'è, domani non c'è. Un uomo che non ti tratta bene, cioè ti dà un po' per scontata. Non vive una relazione con te come se fosse appunto una relazione importante, ma la vive come così, superficialmente, senza darti quello che vorresti. E tu invece provi un forte sentimento d'amore nei suoi confronti, no? Come fare a ribaltare la clessidra, a far sì che si inverta la tendenza, diciamo, che sia lui a desiderarti, che sia lui a desiderare di compiacerti? Beh, ci sono diversi modi, modi interiori e modi esteriori. Allora, interiormente quello che devi fare è cambiare un po' le convinzioni che hai di te stesso. Ognuno di noi stessi ha un'immagine, ha una sua immagine. E se tu pensi di avere l'immagine di una persona bisognosa, di una persona che non può, diciamo, perdere questa opportunità con questa persona, altrimenti non riuscirà a trovare un'altra, Allora, se hai l'immagine di una persona che non riesce a conquistare, non ha difficoltà a conquistare, a trovare l'uomo giusto, e allora si è contenta di quello sbagliato, bene, allora sei l'immagine di una donna che non vale. Tu invece devi cambiare la tua immagine e acquisire l'immagine di una donna che vale. Una donna che vale è fondamentale avere questo tipo di immagine. Basilare, perché se tu non riesci ad avere questa immagine di una donna che vale di te stessa, beh, diciamo così, che se non ami te stessa, come puoi pretendere che siano gli altri ad amare te? La seconda cosa è quella che devi fare sempre dentro di te, non giustificare i suoi comportamenti. Perché nel momento in cui tu giustifichi i suoi comportamenti, non giustifichi più i tuoi. Questo devi tenerlo presente, è una cosa importante, una cosa basilare. Nel momento in cui giustifichi lui, non giustificherai più te. E non giustificherai più te per mille, mille motivi. Cioè, cosa vuol dire mille, mille motivi? Vuol dire che non potrai, come dire, se giustifichi che l'altro ti tratta così, vuol dire che sei tu quella sbagliata, automaticamente. La tua mente capisce questo. Quindi devi iniziare a, diciamo così, evitare di giustificare. Questo è sempre un lavoro interiore. E come, cosa deve scattare nella tua testa? Deve scattare una consapevolezza che tu più lo insegui, più lui diventerà irresistibile. Perché è inevitabile, no? Cioè, tutto quello che viene inseguito, che viene bramato, diventa prezioso. E lui si creerà sempre di più delle credenze di essere irresistibile, di essere prezioso, di essere chissà chi. Ecco, questo è quello che devi evitare che accada. E allora cosa devi fare? Beh, è molto semplice. Ne ho già parlato in altre parti. Tenere presente che noi siamo tutti collegati da un entanglement. E allora, tu puoi continuare a relazionare con questa persona, ma devi maturare dentro di te il silenzio stampa. Cioè il distacco emotivo. Devi staccare lui dalle emozioni. E senza dire niente a lui, vuol dire, però piano piano vedrai che nel momento in cui tu maturerai questo distacco interiore e andrai a ritrovare una vita nuova, una vita diversa, mantenendo proprio un distacco, ma non lasciando, non facendo no contact, proprio creando una sensazione di voto interiore. Lui lo sentirà. Guarda, tu prova, poi scrivimi nei commenti sotto se cosa succede, perché nel momento in cui tu tiri fuori la tua energia, tiri fuori la tua forza e crei un distacco da questa persona, un distacco forte da questa persona, automaticamente l'altro lo sentirà. E automaticamente quel preciso istante, proprio come effetto quantico, istintivo, istantaneo, scusa, si ribalta la clessidra. Si ribalta la clessidra e lui... E lui inizierà ad inseguirti. Inizierà ad inseguirti. Ti sembrerà una cosa strana. Ti sembrerà una cosa impossibile. E invece questa accadrà. Perché noi siamo tutti collegati. Siamo tutti collegati da... Siamo energia. Siamo energia e siamo uno collegato all'altro. E allora questo tipo di energia si chiama entanglement. E quando tu crei questo vuoto, quando tu crei questo vuoto, avviene il distacco. Avviene il distacco che lui lo percepisce e questo senso di vuoto che proverà interiore. Lo porterà e lo spingerà dentro di te. Ti ripeto, lascia, diciamo, i tuoi commenti qua sotto. Se ti è mai capitato di provare un distacco verso una persona, a provare un distacco. Hai trovato quella forza interiore che ti ha consentito di distaccarti. E questo ha fatto sì che lui si riavvicinasse a te. Si riavvicinasse a te. Soltanto facendo questo. In più puoi abbinare, volendo, una volta che hai creato questo vuoto interiore, nei suoi confronti, lui si avvicinerà, puoi iniziare a mettere dei vincoli, allontanarti un po'. E avrai un cagnolino che schiocherà le dita e arriverà correndo. Ma devi però fare questo. E ce la puoi fare, veramente, ma devi metterci energia. La tua energia riuscirà a trasformare una realtà che non ti piaceva in una realtà che ti piacerà. Lascia i tuoi commenti qua sotto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ovviamente iscriviti al mio canale. E iscriviti anche al mio nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco, del quale trovi il link qua sotto. Canale, ripeto, che secondo me troverai molto interessante. Prova ad andare a vedere. E se ti piace iscriviti. E inoltre ti ricordo che sul mio canale, questo qua, Massimo Terramasco, tu potrai abbonarti. Basta che avessi solo un page e affianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati e puoi scegliere il tipo di abbonamento che preferisci. Tra tre livelli di abbonamento che ci sono, come ti ho spiegato prima. Per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!